buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video dedicato alle mappe creative del capitolo 6 stagione 1 finalmente sono stati aggiornati e sistemati i punti xp che si possono guadagnare con le modalità creativa lego salva al mondo festival rocket racing rientro quindi finalmente si può livellare velocemente in tutte le modalità oggi siamo qui per vedere una mappa creativa e andiamo subito con il video di oggi dunque 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 codice della mappa 9630691770740 gravity free for all startatela in modalità partita privata e seguite tutti i passaggi cominciando con verificare che la versione sia la numero 8 una volta startata la mappa bisogna subito attivare il timer che troviamo esattamente in questa posizione devo dirvi che le mappe non le ho fatte fino a ieri praticamente visto che ieri c'è stato l'aggiornamento e da ieri pomeriggio praticamente anche in creativa si possono livellare velocemente il pass battaglia appunto con le mappe ad hoc come vi ho sempre portato nelle scorse stagioni quindi da oggi tecnicamente ricominciano i video pomeridiani appunto dedicati alle mappe creative quindi mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella e condivetevi con i nostri amici lasciate anche un bel pollicione all'insù ragazzi arriviamo a 100 like facciamo partire la coppa jan quarta tappa con in paglio 1000 v-back quindi mi raccomando spolliciate e iscrivetevi ora abbiamo preso le chiavi scendiamo giù nell'arena sono un po' dilungato e una volta arrivati in questo angolino qua facciamo 6 rampe e 5 basi verso l'esterno quindi 6 ci giriamo e poi 1 2 3 4 5 qui avremo la nostra secret room e all'interno ci saranno tantissimi xp button da attivare ora vi faccio vedere in questa run un bel po' e qui si fanno circa 120k quindi un livello e mezzo in 20 minuti che è una buona media vista l'andazzo dei punti xp speravo di arrivare al livello 100 entro domenica entro la settimana sono al 60 il quinto giorno ne mancano due considerando che i primi due di xp se ne facciano davvero pochi dovremmo in teoria riuscire a fare i primi 100 nella prima settimana e magari chiudere il mese intorno al 400 adesso vediamo se ci riusciremo vi ricordo che alla sera vi trovate qui in live e anche sul sito viola quindi mi raccomando iscrivetevi anche sul sito viola vi aspetto anche lì per poter giocare insieme la sera a mare anche in rank at 0 build rientro e raggiungere Unreal insieme un bel quartetto affiatato e ci divertiamo insieme dalle 22 in live magari durante il periodo durante le vacanze natalizie potremmo anche partire intorno alle 20 e 30 adesso vediamo di organizzarci quindi mi raccomando se volete attivare far partire la coppa già in quarta tappa per il 22 di dicembre spolliciate e arriviamo a 100 like magari possiamo arrivare anche a 2000 iscritti al canale tanto stiamo espando siamo quasi al 60 qui di punti se ne fanno e qui c'è esattamente in questa posizione un altro secret xp button eccolo qui tasto interagisci e altri punti xp direi davvero interessante 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 anche se devo dirvi che il modo più veloce per expare è sicuramente salva il mondo lo ritengo se strutturato e impostato in maniera corretta il metodo più veloce per fare livelli qui su fortnite ma l'ho sempre detto e lo ribadisco all'inizio di questa stagione avevano fatto un po' di casini con l'xp anche salva il mondo non pagava praticamente quasi nulla però adesso da ieri è stato sistemato e in un'ora si fanno almeno tre livelli buoni giocando in modo strategico schippando il più possibile e proprio completando le missioni delle delle mappe quindi davvero davvero interessante anzi fatemi sapere dove voi livellate questa in questa stagione 6 e a che livello siete già arrivati se state farmando di brutto oppure ve la state prendendo con camel ma tra l'altro domani esce il passo G che dovrei riscattare in automatico visto che la crew ce lo attiva fino al 13 o 14 spero di riuscire a completarlo per quella data quindi si tratta esattamente di 6 7 giorni quindi 7 giorni vediamo quanti livelli servono per completare il passo G e vediamo se riusciamo a farlo prima della chiusura della crew e vi ricordo che crew nuova vi dà i pass ma se non li completate e disdicete l'abbonamento vi si blocca a dove siete arrivati e per completarlo o lo acquistate o riattivate la crew insomma oh intanto ho 44k qua così nel frattempo direi niente male eccolo qui eccolo qui il livello 60 60 livelli 60 livellini portati anzi 60 e mezzo quasi per 2k sono 60 e mezzo qui abbiamo un altro secret xp button esattamente in questa position eccolo qui eccolo 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 e altri punti xp che andiamo a sommare al resto oh mi raccomando se scioppate codice il jan il piont tutto attaccato da rinnovare ogni 2 settimane in teoria dovrebbero uscire un po' di cose interessanti nei prossimi giorni tra l'altro manca poco anche al capanno dell'inverno che dovrebbe arrivare a breve visto che siamo al 5 di dicembre in teoria manca poco vabbè se c'è anche lì una barra due skin in regalo anche quest'anno un sacco di altri oggetti a tema natalizio vediamo vediamo se avete suggerimenti e consigli mi raccomando per organizzare qualcosa divertente scrivetelo nei commenti sono aperto a tutte le vostre richieste mi raccomando scrivete qua sotto vediamo cosa dice la community e direi che ci siamo ora chiudiamo con la bouncing room e abbiamo finito questa run direi niente male fatemelo sapere nei commenti mi raccomando pollicione condividete iscrivetevi e attivate la campanellina noi ci vediamo stasera in live alle 22 e 30 qui sul canale ciao ciao